Abbiamo avuto la possibilità di fare un ulteriore momento di approfondimento, ma lo facciamo qui davanti alla stampa, perché non c'è niente che non si possa dire pubblicamente. Noi come Commissione, e lo faremo attraverso il comitato presiedito dal senatore Gianlusso, il comitato dei studenti locali, dagli elementi che abbiamo acquisito per quanto riguarda in maniera particolare una discarica, noi chiederemo di verificare la possibilità di una Commissione di accesso nel comune di Mazzara. Facciamo esplicitamente questa richiesta, perché dagli elementi che noi abbiamo acquisito in queste giornate, a noi questo sembra perfetto, poi gli verrà una richiesta formale da parte del comitato per verificare l'opportunità e anzi forse la necessità di una Commissione di accesso.